Come rendere trasparente la barra delle applicazioni Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial, in questa nuova guida breve e ti spiego come rendere trasparente la barra delle applicazioni ovviamente se io adesso apro una cartella e la provo a far scena fino a giù io non la vedo attraverso questa barra dell'applicazione quindi se andiamo un attimo sul logo di Windows tasto destro sopra su sistema vai su personalizzazione, colori, effetti di trasparenza metti attivato ovviamente c'è la trasparenza sulla barra delle applicazioni però c'è ancora questo colore perché l'ho impostato io però se non vuoi questo colore ti consiglio di mettere disattivato su tutto e due mostra il colore principale su start oppure sulla barra delle applicazioni quindi scegli la modalità scura devo vedere se su chiara posso mettere... no, non si può vedere quindi bisogna per forza mettere scura e c'è l'effetto di trasparenza ma non solo sulla barra delle applicazioni ma anche qua sopra ok? quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida quindi se ti è stata utilissima ti consiglio di lasciare un like iscriverti al canale lasciare un commento se hai bisogno di qualcos'altro e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao